Alla mezza maratona di Parigi erano presenti i cavalli marini di Chioggia con una delegazione di sei atleti, Ivone Bertaggia, Valeria Bullo, Tiziano Bissacco, Stefano Ballarin, Vladimiro Costa e Mario Lando Vivaldi. Alla partenza per la mezza maratona erano attesi molti corridori, si tratta di uno tra gli eventi più popolari all'interno del calendario sportivo francese, che porta a una gara all'interno di uno dei più bei panorami della capitale. Un percorso di 21 km in un tratto abbastanza pianeggiante, adatto a principianti ed esperti. Le iscrizioni per la competizione si erano aperte ancora l'11 settembre dello scorso anno. La gara vedrà la partecipazione di atleti francesi, kenyoti, etiopi ed esteri. Tra gli italiani figurano quindi i chioggiotti dei cavalli marini che supponiamo non siano stati gli unici concittadini a partecipare alla competizione. Aragoste, astici, granseole, granchiporri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia.